Ha segnato la Juventus! Non credo che possa esserci un qualche giocatore che possa scaldarmi di più o comunque farmi più piacere di Cristiano Giuntoli. Non voglio, ragazzi, osannare all'estremo questo personaggio, questo nuovo direttore tecnico, perché obiettivamente è stato anche accolto forse in maniera troppo festosa, diciamo così. Ma ce n'era bisogno, l'abbiamo detto tantissime volte, ce n'era bisogno per il caos societario, ce n'era bisogno per il caos interno della Juventus, ce n'era bisogno perché quasi niente funziona dentro la Juve se non il progetto Next Gen. Per cui le parole, le prime parole di Cristiano Giuntoli da direttore tecnico della Juventus, ripeto, sono state una conferma di quello che pensavo. In tantissimi, in tantissimi si sono focalizzati sulla parte della Juventinità, sul fatto di essere tifoso, sul fatto che da ragazzo prendeva il treno da Prato per raggiungere Torino e andare a vedere la Juventus. In tanti si sono anche soffermati sul ricordo del padre di Giuntoli, il grande tifoso della Juve. Per me il punto più bello invece è quello che sta in mezzo, cioè quando alla domanda cosa pensi di portare a questa società, come pensi di lavorare, lui secondo me esprime già un paio di capisaldi, ragazzi, che tante volte se vogliamo sono anche scontati, tante volte se vogliamo sono anche banali. A volte si possono anche considerare e ritenere pura retorica, ma in questo caso secondo me no. E comunque mi fa piacere che certi concerti e certi capisaldi vengano ribaditi, perché credo che all'interno di questa Juventus, soprattutto per i giocatori che fanno parte della squadra, che i giocatori che alla fine devono scendere in campo, allenatore compreso, allenatore compreso che deve scendere un po' dal piedistallo, tornare a parlare di umiltà, tornare a parlare di noi, dire dobbiamo mettere tutti quanti davanti il noi piuttosto che l'io, parlare di tante teste e un unico cuore, parlare di lavoro, di lavorare più degli altri. Lui dice sicuramente noi lavoreremo più degli altri, poi meglio degli altri, solamente il tempo ce lo dirà, ma sicuramente saremo dei grandi lavoratori. Io credo che una cultura di questo tipo sia essenziale e credo che negli ultimi anni la Juventus l'abbia persa. L'abbiano perso un po' i calciatori che in campo, secondo me, un po' appagati dal megaciclo di scodetti, si sono un po' seduti, specialmente in Serie A. Credo che questo appagamento si sia visto molto in una dirigenza presuntuosa, presuntuosa nelle scelte, presuntuosa nelle decisioni gestionali e amministrative, presuntuosa nel lasciare a casa un dirigente come Marotta, presuntuosa nel smettere, diciamo, anche di studiare, di guardare il calcio, di aggiornarsi, e quindi semplicemente sentendosi in diritto di spendere e spandere solamente perché sei la Juventus e tu quindi essendo la Juventus puoi avere l'arroganza di fare quello che vuoi. E quindi questo tipo di valore qua, secondo me, è stato perso. Il fatto che giuntoli arrivi anche in un ruolo così importante e la prima cosa che dica è mettiamo davanti tutti quanti il noi piuttosto che l'io, torniamo a lavorare, impariamo a lavorare più degli altri, beh, credo che questa, ragazzi, sia veramente la cosa più importante. Allora, quando ho ascoltato queste parole, ho detto, sì, allora questa è la conferma che quantomeno gli intenti sono quelli giusti e il principio, la base di partenza è quella giusta. E quindi io sono veramente felici di questo e onestamente non vedo nemmeno l'ora di vedere un po' anche come evolve la situazione, no? Perché giuntoli non è un attaccante che ti porta 30 gol all'anno. Giuntoli ti sceglie l'attaccante che dovrebbe portarti 30 gol all'anno. Per cui gli effetti giuntoli si vedranno col tempo. Probabilmente neanche il prossimo anno. Probabilmente li cominceremo a vedere dalla stagione 24-25. Su questo mettiamoci il cuore in pace. Non iniziamo ad accanirci contro giuntoli se il prossimo anno Juventus dovesse far fatica. Se la Juventus il prossimo anno dovesse far fatica è perché la Juve porta con sé alle sue spalle delle stagioni molto difficili e quindi giuntoli si deve prendere anche carico dei problemi che ha lasciato altra gente prima di lui. Per cui non aspettiamoci miracoli, non aspettiamoci incantesimi, non aspettiamoci che giuntoli arrivi a Torino con la bacchetta magica. Mi auguro che questo percorso, questo nuovo progetto, possa essere il più veloce possibile, possa far tornare la Juventus a vincere nel minor tempo possibile, ma sono anche molto realista nel dire il prossimo anno non è che mi aspetti chissà che cosa. Però sono curioso di vedere come andrà ad operare giuntoli e soprattutto sono curioso di vedere se riuscirà a restaurare un rapporto che, lo sappiamo, è abbastanza deteriorato, diciamo così, tra certi giocatori anche molto importanti dello spogliatoio e Massimiliano Allegri. Penso in primis a Federico Chiesa, penso a Vlaovic. Puoi da capire se questi due giocatori rimarranno effettivamente tra le nostre fila, però allo stesso tempo, dico, se dovessero rimanere anche solamente in questa fase iniziale di prestagione, sono curioso, sono sinceramente curioso di vedere se ci saranno già degli effetti giuntoli, se ci sarà già un miglioramento, se certe cose potranno andare già nella direzione giusta e poi capiremo effettivamente come lui andrà a mettere mano anche al mercato, con quali nomi, con quali idee, con quali strategie. Insomma, sono curioso di vedere come partirà questo nuovo progetto tecnico, però intanto le premesse sono veramente delle migliori, una figura così alla Juventus mancava e come. Brevissima parentesi sulla situazione Bonucci e sul caso Bonucci. Io mi sono un po' informato, ho un po' letto, ho sentito diverse opinioni, ho sentito diversi pareri, ho sentito diverse fonti che raccontano un po' la situazione e non ho ancora capito esattamente che cosa sia successo per far sì che nel giro di così poco tempo si potesse arrivare insomma arrivare in una situazione di questo tipo perché addirittura si parla di una rottura netta tra Bonucci, l'allenatore, la società, insomma questo non l'ho ben capito. Fatto sta ragazzi che io noto da parte della tifoseria Juve troppa fretta di voler salutare Bonucci, io non sottovaluterei l'importanza che ha Bonucci nello spogliatoio, attenzione a voler perdere questi leader in maniera così frettolosa, in maniera così netta e anche convinta, perché in questo momento alla Juventus di leader non ce ne sono, io conto Bonucci e conto Danilo come veri leader, come veri giocatori che possono anche magari vantare un certo curriculum, un certo palmaresse, io ne conto veramente pochi ragazzi di leader, c'è lo stesso Chiesa se dovesse rimanere un giocatore che la leadership se la deve andare a conquistare, la deve andare a strappare con le unghie e con i denti, in senso buono, ma è lui che deve dimostrare di diventare il leader, non ce ne sono tanti ragazzi, i leader servono nei momenti di difficoltà che in una stagione ci sono sempre, i momenti di difficoltà ci sono anche in una stagione come quella del City di quest'anno che va a fare il triplete, ci sono sempre, la squadra che vince è quella che gestisce meglio questi momenti e che esce più velocemente possibile da questi momenti, nel minor tempo possibile da questi momenti, per cui attenzione ragazzi a voler cacciare così via a calci in culo Leonardo Bonucci perché io credo che il rispetto dei suoi compagni ce l'abbia come, lo si percepisce magari anche in certi commenti, anche sui social, che è di fatto un po' quello che posso captare io, ma lo vedo anche onestamente in campo, per cui attenzione a volersi liberare così in fretta di Bonucci perché ripeto, in questo Juventus i leader scarseggiano, per cui facciamo attenzione anche a questo caso. Ragazzi, buon weekend!